Jingle Spot www.pronosticoonline.com rubriche, pronostici e consigli per passare alla cassa Nomi nuovi e vecchi amori, il mercato della Lazio inizia ad avviare i suoi ingranaggi tra conferme e smentite L'ultima pista porta Danilo Larangheira, meglio noto come Danilo Il centrale brasiliano dell'Udinese è un classe 84, un giocatore che garantisce esperienza e continuità di rendimento Michele Crescitiello, direttore di Tutto Mercato Web, ha parlato di un testa a testa tra Fiorentina e Lazio Con il viola in vantaggio per assicurarsi le prestazioni dell'ex Palmeiras Marcio Rivelino, agente del giocatore, ha commentato così queste voci in esclusiva ai microfoni della LazioSiamoNoi.it Fa sempre piacere sapere che il suo profilo è seguito da altri grandi club In ogni modo, nessuno ha parlato con me fino ad ora Al netto delle dichiarazioni di rito, Danilo è un giocatore che interessa ai biancocelesti da tempi non sospetti Il suo contratto scade nel 2018, la Fiorentina ha iniziato a lavorare sul trasferimento Ma la Lazio potrebbe sfruttare l'ottimo rapporto che intercorre con la dirigenza friolana Per tentare la fondata nei prossimi mesi Tutti i venerdì in esclusiva i pronostici del Mago Alberto Inoltre, help Serie A, help Premier League, help Liga, help Bundesliga Tutte le curiosità, le statistiche, i precedenti e i consigli dei nostri esperti Partita per partita, per passare alla cassa Su pronosticonline.com trovate anche i consigli per il fantacalcio di Emiliano Donati Pronosticonline.com vi ricorda che scommettere è vietato ai minori di 18 anni Scommettete sempre responsabilmente Inoltre Flop No 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 Grazie a tutti.